A Scanzano Ionico la tappa finale della carovana anti-racket e anti-usura del progetto Economie di Libertà finanziato dal programma operativo Legalità FESR FSE 2014-2020 ha individuato 5 presidi tra Calabria e Basilicata in diretta per noi dalla sala consigliare di Scanzano Ionico c'è l'inviato. Angelo Liveto. Sì, ultima tappa della carovana del progetto Economie di Libertà che ha l'obiettivo di aiutare concretamente chi in Calabria e in Basilicata è stato colpito da fenomeni di usura e di estorsione. Carovana anti-racket che torna a Scanzano Ionico dove lo scorso luglio è stato firmato un protocollo d'intesa tra la prefettura di Matera e la fondazione nazionale anti-usura interesse Uomo Ollus. Don Marcello Cozzi è il presidente della fondazione. Sì, cinque tappe abbiamo fatto in due regioni, cinque presidi di legalità per dire chi è vittima dell'usura, chi è vittima dell'estorsione che lo Stato c'è ma non c'è solo lo Stato, ci sono anche quelle associazioni come la fondazione che possono andare incontro a quelle problematiche, a quelle esigenze, a quei bisogni e che possono aiutare quelle persone che sono nel bisogno ad accedere ai benefici previsti dalla legge. Due presidi in Basilicata a Potenza e a Montescaglioso, Sant'Capponi prefetto di Matera, una vera e propria rete contro l'illegalità. Assolutamente, non potevo non essere presente questa sera qua insieme a Don Marcello Cozzi, insieme al procuratore Curcio, insieme a tutti voi. Io sono arrivato da tre settimane a Matera, questa è forse la prima uscita importante, sono arrivato qua per ascoltare e per dare la massima disponibilità dello Stato, delle forze dell'ordine nella collaborazione con le associazioni anti-racket e anti-usura e quindi il mio impegno che assumo questa sera qua è di dare il massimo sostegno a queste iniziative. Come sapete abbiamo stato sottoscritto a lui un protocollo insieme all'associazione di Don Marcello Cozzi, sicuramente svilupperemo altre iniziative e ci sarà da parte della Prefettura sicuramente il massimo sostegno e la massima collaborazione per la legalità. Ecco, questi presidi possono contribuire sul territorio a promuovere la cultura della denuncia per non far sentire le vittime sole? Francesco Curcio, procuratore distrettuale antimafia di Potenza. Sono essenziali queste iniziative, specie in un periodo in cui nel Paese tira un velo. Grazie. 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 Grazie.